Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, siamo tornati su Titanfall Vabbè, siamo tornati no, allora, è un nuovo video Sto registrando la Playstation 4, quindi non vedete la webcam Ma ancora mi devo abituare, non so manco come si sente È la prima volta che registro la Play 4 E allora ragazzi, come potete vedere, stavo dicendo, ci troviamo su Titanfall 2, la pre-alpha È la prima volta che gioco a Titanfall Ho solo visto qualche video di Titanfall, il primo E sinceramente non so manco che devo fare Proviamo training, magari ci spiega come giocare, non lo so Allora ragazzi, proviamoli insieme, vediamo com'è come giochino Ok, che è sta cosa? Una, due Di nuovo? Ah, ok No, va bene questo Dove devo uccidere? No Volente la sensibilità Ah, va bene, ok Vabbè, praticamente sto facendo l'esercitazione con voi In poche parole Ora Devo continuare Oh, è come Come lo immaginavo Ok per abbassarmi il cerchio Double jump Ah ok Bello Bello il panorama Azzon ezzel ilyen Ilyen Cosa 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 dai fammi prendere qualche arma ok ora è più veloce mamma mia ora è velocissima invece guarda lo premo leggermente ok no aspetta vediamo se c'è qualche la sensibilità questo è un cecchino ma che cazzo perché fa così no ma che cazzo dai va bene ah devo prendere un'arma vabbè preferisco questa andiamo vai andiamo guardate come che è sta roba c'è qualcuno qua? no che figata ragazzi io non ci sono per niente abituato a giocare agli fps col joystick quindi mi sta venendo davvero difficile a controllare la levetta ok chi è sul muro? non posso oh eh me l'ho rieppiccicato no che cazzo no 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 ho posto per fortuna non si prende danno da caduta oh guardate non è troppo difficile allora ora devo andare di qua no ok no oh che culo è il doppio salto ok fatto dai non è male come gioco ora vorrei provare l'online però ah qua abbiamo finito praticamente perfetto perfetto abbiamo finito allora ragazzi allora possiamo provare subito una partita online anzi no la faremo nel prossimo video allora ragazzi sembra un bel gioco il prossimo episodio lo faremo online penso che si può giocare online noi ci vediamo quindi nel prossimo video e ciao ciao